Interroppiamo il programma alla benedizione per una breve edizione straordinaria del DG3. Figa! Spacchiamo tutto! Perché qualche coglione si sono venduti i colori? Perché si sono venduti i colori? I coglioni! Per quale motivo si sono venduti i colori? I coglioni? Perché c'è qualche bocchimigola che è scena da guagnarsi sopra su a spegnere i colori? Io bevo acqua fissante da 10 anni! Va bene a te? Va bene i colori! E coglioni! Erano tutti straesaltati! Sono notati che era strappistato! C'è saccagnato! C'è era messo male! Aveva un occhio che sembrava non manca avesse combattuto con Mike Tyler! Vabbè ai tempi d'oro! C'è nel senso quando proprio si eravano in volto! La sciglia! Uuuuh! Sperico Pazzo è tutto! A te la linea! Sono spedicini! Senti! Sperico Pazzo è tutto!